Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui con un nuovo episodio di FIFA Mystery sono contento che il primo episodio vi sia piaciuto e che vi abbia intrigato abbastanza e quindi vi invito come sempre a lasciare un bel like, vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 likes proprio potenti e lasciatemi un commento come nello scorso video consigliando i misteri che voi mi consigliate ovviamente su FIFA e molto importante comunque quando mi proponete i vostri misteri scrivete una breve descrizione di essi, comunque di cosa si tratta così riesco a capire anche più in fretta cosa intendete per misteri di FIFA comunque cosa voglio dimostrare in questo episodio o cosa mi sono interrogato più che altro su questo episodio come vedrete dal titolo si tratta di intesa ma non intesa complessiva della squadra bensì dei singoli giocatori cioè se io ho una squadra come questa ad esempio composta da giocatori che più o meno hanno 9 e 10 di intesa se io a questi 9 giocatori ci aggiungo 1 o 2 giocatori come in questo caso Wolcott e Aubameyang che hanno rispettivamente 5 e 6 di intesa volevo dimostrare che in realtà l'intesa tra questi due giocatori non conta così tanto poi rispetto a come si gioca una partita quindi andiamoci subito a vedere qualche clip per discutere un po' di questo caso allora partiamo dal presupposto che in 5 partite che ho fatto in 4 hanno quittato dopo che comunque hanno visto che la squadra girava bene e che i due attaccanti erano quello che erano molto molto sueti quindi i dati possono essere un po' come dire influenzati da questo aspetto comunque partiamo anche da un altro presupposto che non è facile trovare delle ali o comunque degli esterni come Wolcott e Aubameyang che hanno rispettivamente 95 e 96 di velocità e una finalizzazione così alta cioè da avere proprio attaccante 83 per Wolcott mi pare 84 per Aubameyang o viceversa adesso non ricordo appunto non è facile trovare dei giocatori di questo tipo quindi potrebbero tranquillamente essere messi da attaccanti da prime punte è ciò che comunque ho fatto e giocando con questi giocatori non ho riscontrato particolari problemi ogni tanto certo sbagliavano qualche passaggio ma è normale ogni tanto erano un po' macchinosi nei controlli ma è normale anche perché Wolcott, Sima, Aubameyang per esempio non ha un grandissimo controllo palla ma senza ombra di dubbio sono due giocatori che sono velocissimi, rapidissimi e che comunque anche se non hanno 9 o 10 di intesa ciascuno riescono comunque a dar molto molto fastidio alle difese avversarie qualunque tipo di difesa sia perché con la loro velocità riescono comunque a seminare gli avversari con grandissima facilità inoltre hanno un ottimo dribbling, un'ottima agilità e quindi risulta anche facile saltare gli avversari quindi io mi sento di dire che non conta troppo l'intesa dei singoli giocatori bensì ovviamente quella generale della squadra chiaro, io avevo 97 di intesa e giocavo come se ne avessi 100 se avete una squadra con 22 per dire di intesa è ovvio che giocate male è ovvio che i giocatori non risponderanno sempre ai comandi che voi fate è normale, però comunque se avete 97 ma anche 90 di intesa secondo me cambia veramente pochissimo se non nulla durante le partite, ecco questo è quello che penso io poi fatemi sapere ovviamente voi nei commenti se avete testato anche voi questa cosa se vi siete posti il mio stesso quesito fatemi sapere a che conclusioni siete arrivati comunque come possiamo vedere qui dalla clip ci sono stati sommati in 5 partite 7 gol e 4 assist se non sbaglio per la coppia d'attacco quindi devo dire che è un'ottima media considerando il fatto che è una squadra molto offensiva e segnano soprattutto le ali, cioè gli esterni volevo dire che sono Blasikowski e Young ma soprattutto anche i centrocampisi centrali che sarebbero un po' più offensivi come Wilshere e Gundogan che è davvero un ottimo giocatore provatelo comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se proverete anche voi questo tipo di quesito, questo tipo di mistero e fatemi sapere cosa succede a voi e se siete d'accordo col mio pensiero come sempre raga vi invito a lasciare un bel mi piace a 400 mi piace uscirà un nuovo video lasciate un commento ovviamente con quello che vi ho detto a inizio video e iscrivetevi al mio canale, pagina facebook, twitter, instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!